un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale anche oggi con questo video dedicato alla schedina della settimana cercheremo di creare un pronostico con le partite dei campionati principali che giocheranno da sabato a lunedì dunque andiamo su calcio e selezioniamo italia inghilterra spagna germania e francia ma adesso andiamo avanti e procediamo con il pronostico sulle italiane queste sono le partite che secondo me sono le più probabili considerando anche che la scelta è stata tra partite che offrivano una quota non inferiore a 1 e 20 andiamo avanti e procediamo con l'aggiunta del pronostico sulle partite inglesi queste sono le partite che secondo me possono andare bene considerando naturalmente le quote e il rendimento nelle ultime partite andiamo avanti e procediamo con l'aggiunta del pronostico sulle partite spagnole queste sono le partite che secondo me hanno una buona probabilità di soddisfare il pronostico ed hanno anche quote abbastanza interessanti andiamo avanti e procediamo con l'aggiunta del pronostico sulle partite tedesche queste sono le partite che secondo me spiccano più delle altre sia per la quota che per le buone statistiche andiamo avanti eOULD e tramite i modelli diasinghen e quindi Andiamo avanti e completiamo con l'aggiunta del pronostico sulle partite francesi queste sono le partite che vanno a completare il pronostico di questa settimana e come tutte le settimane quello che vi propongo è un sistema integrale con 4 doppie le doppie che ho inserito nel pronostico con il segno 1 abbinato alla giocata 2 o gol il segno 2 abbinato a 1 o gol queste partite risulteranno perdenti solo con lo 0 a 0 questo sistema integrale con 4 doppie che in pratica sviluppa 16 colonne le andremo a giocare da 15 centesimi per colonna per un totale di 2 euro e 40 per chi gioca su scommettendo adesso vi mostrerò il codice di prenotazione spero che questo video vi sia piaciuto vi invito a iscrivervi al mio canale lasciare un mi piace e condividerlo con i vostri amici un saluto a tutti ci vediamo al prossimo video ciao